Nessun pagamento della COSAP, la tassa per il suolo pubblico da marzo fino a fine anno per gli ambulanti di De Orde, i locali che dove possibile potranno essere allargati, stop a quella dei rifiuti, sino a quando il Governo un darà il via libera alle riaperture con il Comune che pagherà la tariffa, nessun affitto per i locali di proprietà dell'amministrazione e gli impianti sportivi durante il periodo di stop per il coronavirus, con previsione di riduzioni future. Sono le principali misure messe in campo dall'amministrazione di Pistoia per venire incontro ai bisogni dei commercianti fortemente colpiti dall'emergenza sanitaria. La finalità è quella di aiutare le attività più in difficoltà, il nostro commercio, la nostra rete commerciale. Il Comune è in grande difficoltà, come tutti i Comuni d'Italia. Il nostro bilancio ha ad oggi perdite per circa 10 milioni e mezzo, ma nonostante questo abbiamo cercato di intervenire. Il piano, presentato dal Sindaco Tomasi e dall'assessore Semplici, prevede anche una riapertura di due varchi di accesso al centro, quello di Via della Madonna e quello di Via Palestro, dalle 11 del mattino alle 14.30 e quindi nel pomeriggio dalle 18 alle 22, nonché la gratuità della sosta del parcheggio del Ceppo. Per garantire anche il takeaway, permessi per incentivare il delivero e quindi la consegna a casa per tutti i nostri ristoranti che avevano animato e animano e animeranno il centro storico della nostra città. Ripeto, queste sono anche le aperture dei varchi, misure per aiutare e incentivare gli acquisti in centro e non bisogna abusarne per venire qui, parcheggiare, occupare sosta dei residenti o fare passeggiate. Sono misure che devono aiutare le attività economiche. Grazie.